Le opposizioni che parlano di una Guantanamo italiana? Le opposizioni non sanno più cosa dire. La verità è che il governo Meloni continua a lavorare, ottiene risultati. Prima la Tunisia, adesso l'Albania, se ne facciano una ragione. Il governo Meloni è il primo governo politico che porta finalmente risultati alla nostra nazione. Senta, anche Dara Lega stamattina, però sottolinea l'Albania, bene che ci aiuti, oppure si vuole entrare in un'Unione Europea, però non siamo toni trionfalistici. Ma non sono toni trionfalistici, sono successi che ottiene il governo Meloni e sono successi che aiutano in un percorso molto lungo, molto più ampio, che porterà l'Italia a non rimanere più da sola. La cosa importante è che si è finalmente capito, e l'hanno capito anche a livello europeo, che l'Italia non può essere lasciata sola in questa battaglia. Lo capisce un paese che non è ancora in Europa, vuole entrarci, ma non lo è ancora, lo ha capito anche l'Europa e il successo sta proprio qui, e qui nella Berra finalmente ho trovato degli alleati in una direzione, in un problema, quello del fenomeno migratorio, che finora non è mai stato risolto da nessuno.